Buonasera, ben ritrovati con il TLSera, partiamo oggi subito con un servizio che ha realizzato per noi Pietro Capella, professionisti della comunicazione e studenti a confronto. Si è svolta nell'ambito di Movie & Co una giornata di formazione tutta dedicata ai giovani videomakers. Vediamo insieme il servizio. Movie & Co non solo un concorso per giovani registi ma anche un'occasione importante di formazione nell'ambito della manifestazione organizzata dall'associazione Amici del Future Film Festival è stato organizzato un workshop per imparare le tecniche per la realizzazione di spot pubblicitari e di video aziendali. Una giornata particolare per la prima volta per la quarta edizione è voluta con forza da noi per cercare di creare valore aggiunto alle opere che poi andranno a realizzare i ragazzi. Sostanzialmente abbiamo messo intorno a un tavolo parecchie competenze di professionisti dove diverse persone per le proprie attitudini, le proprie competenze e le proprie professionalità daranno probabilmente ai ragazzi dei consigli utili e preziosi che se messi in pratica potranno portare a una migliore qualità delle opere in concorso. Un incontro insieme ad esperti della comunicazione dove i giovani videomakers potranno confrontarsi con le esigenze delle aziende e apprendere i segreti del mestiere direttamente dagli addetti ai lavori. Il talento di questi giovani registi è dunque tutto da tirar fuori con una raccomandazione importante. Chi sta dietro le quinte e chi sta a realizzare prodotti video deve ricordarsi che deve rispettare certi valori e un certo stile di azienda quindi deve assolutamente non dimenticarsi di non essere un artista solitario ma è un interprete di un romanzo un pochino più grande.